Stiamo trattando quello che è la legge di stabilità e stiamo dando supporto ai ragazzi che stanno in commissione bilancio con i nostri libroni, i nostri pareri e cerchiamo di arginare le schifezze che ci portano in questi progetti malsani che hanno. Questa riunione, una riunione generale, noi solitamente ne facevamo, ricordo, un'almese più o meno e ci scambiavamo tutta una serie di informazioni di quelle che erano le nostre attività sul territorio e adesso è un annetto buono che non facciamo di queste riunioni generali ma riteniamo che sia fondamentale a farle, scambiarci informazioni tra municipi, dato che siamo tutti un po' territorializzati sui nostri quartieri e municipi, ormai sono diventati molto più grandi di quelli che erano prima, quindi pensiamo che sia il caso di scambiarci informazioni e iniziare a fare dei processi partecipati tra di noi, capire quali sono le problematiche che si somigliano l'una all'altra e provare a portarle avanti insieme. Poi una questione, oggi è l'Unione Generale di Roma, quindi cerchiamo di portare avanti quelle che sono le progettualità sulla città di Roma e a tutti i livelli istituzionali nei quali ci troviamo. Fra un po' mi addormento. Fra un po' mi addormento.